ben a tutti i ragazzi bentornati sul nostro canale del nostro nuovo video come al solito io sono gabrio birillo oggi andrò a farvi vedere un nuovo liquido vai birillo esponicelo allora si chiara e da rip vip e vct riserva cosa vuol dire vct riserva vaniglia custard tabacco c'è dell'aggiunta di mandorla tostata tostata è invecchiato dentro la botte di rovere ricordiamo per gli amanti della roba invecchiata nella botte di ruota tanta roba tanta roba un liquidoso che si può usare anche diciamo nel tank anche dal tiro da guancia perché è buona molto buona a me piace anche nel caifu l'ho provato con vari atomizzatori ora andremo a provare da cloud c'è gabri sul ghani al druga io su anno si cric e tegum 22 tanta roba è avvolgente e delicato una nota di tabacco leggero la vaniglia che copre abbastanza mandorlato si sente tutto il liquido voto 10 il liquido buonissimi si buonissimi quasi come voto ci puoi dare come abbiamo dato a filippe rocchi eh sì 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 bello cremoso da mettere nella teca non stufa no non smaga non è buono buono veramente buono lo consigliamo lo consigliamo preso da svopo caffè ricordiamo marina di carale moliciara a venza nella spezia andatela a trovare il grande cri che ci ha consigliato questo liquidozzo che è veramente ottimo allora nella taverna dello svopo è tutto se il video vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale ricordatevi che abbiamo la pagina su facebook e su instagram benifici a seguire siamo già tanti stiamo aumentando anche su youtube cresciamo piano piano siamo contenti delle persone che ci commentano ci iscrivano sono tantissime ma piano piano ce la faremo noi vi aspettiamo sempre sul nostro canale ciao ciao ciao